Più di 4 milioni di euro e questa la somma messa a disposizione attraverso il Bando Nazionale INAIL incentivi di sostegno alle imprese per le aziende luccane intenzionate a migliorare i livelli di salute e sicurezza sui propri luoghi di lavoro. Un'opportunità di investimento per l'impresa consentendo di erogare dei finanziamenti a fondo perduto quindi un'opportunità rilevante per le imprese per investire in sicurezza e quindi concretamente adottare dei progetti volte a migliorare le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro. Le imprese potranno presentare la domanda online sul portale istituzionale dell'Istituto entro il prossimo 31 di maggio. I progetti che potranno accedere al contributo così come spiegato nel corso di un incontro a Potenza dovranno riguardare 5 aree di intervento. Si tratta nello specifico di progetti di investimento per l'adozione di modelli organizzativi di responsabilità sociale per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi per la bonifica da materiali contenenti amianto per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica e infine progetti per le micro e piccole imprese nel settore agricolo.